Buongiorno Buongiorno Ok Buongiorno 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 Oggi sono un po' di più, e questo? E questo è meglio? È meglio di più. È meglio di più, maggiore. È meglio di più. E questo? È un po' di più. È un po' di più. Adesso mi sono riusciti a me riusciti a un po' di più. Per me riusciti una bolla. se nemmeno, se nemmeno vedi. Se non vedo in questo caso, avrò bene. Ma dove stiamo? Cosa vuoi pensi? Cosa pensi? Cosa pensi a qui si è compreso questa acqua? Cosa è crea che questa acqua? Questo è il nostro bosco che è creato di 5 acqua. Ma poi potrete vedere questo in una di miei avanti. Andiamo! Opa! E! Otrici ti, Admir, una storia. Abbaccio un doping sredo in un suo coraggio. C'è un 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 coraggio, credo. C'è un coraggio. C'è un coraggio. C'è un coraggio di 300 km a un' altre countere in un'azirale. C'è un coraggio. C'è un coraggio. I ne vedi anche più che. C'è un coraggio. C'è un coraggio態. C'è un coraggio. E' qua il coraggio. E' la che cosa, che cosa sia sicura che ci fanno. C'è un coraggio. C'è un coraggio. Opa! Pazzo freza. Prostiamo frezu. Sada idiamo ponovo in qualche manina e brda. Ovai ho chiesto da mu vodu nalazzo da 2.000 metri, non 2.000 metri, 1.500 metri nalazzo da 2.000 metri. Non c'è quando c'è. A me guarda suđeno da vode pronalazzo da ovim brdima e da nalazzo da nalazzo. Volvera ljudi, mi se li ma golfo advicu, može s'om popijeti. Onde je bilo. Zato što si jedini k'è nalazzo vode uzbrdo koja ide? Ima ti slučajeva, nalazzo vode koja ide uzbrdo. Ma ne, ma pravila zavodu, ba zavodu je sve i uzbrdo i nizbrdo. Ne smije ima žlaku dok se snima. A ne primjećujete vi mnogih stvari dok me snima. Moram ja otačunam svemi. Opa! Nenam više asolca. Moram otvoriti prozor. Prašina je ispred nas. Ponovo vrdo, ponovo prašina, ponovo kamera, ponovo Admir, ponovo Audi ispred nas. A nije njemu žao Audi, a gazda pred nas. Morate imat neko crlinsko vozu za ovakva snimanja. Mene se čini, Admir, da vi niste naučili za ovakvu vrstu snimanja. Vi ste naučili po asfaltu vidite, jel da? I po ovim sladbenim salonima. Aj. Nije ni meni lako. Moram snimati jednom rukom drugom voziti. Pa pazim da se negdje ne bi zdrabio. Evo, nisam lijebu strano golfat vici u lupiju. Pa nisam vodio računa. E, Admir, je sam ti pokazao kako ja koristim klin u svom autu. Evo, ovako vidi. Opa, otvoriš vrata i to. I otvoriš i ti tam vrata. A znaš šta je turbo klima? Ne, ne. Kad ti mašeš te strane, onas ovje vratko, ovako vidi. Viš kako sva klina hladi. A, grna. Bolje nego ono Audi ispred nas. Opa, svidio. Da li smo stigli na odredište? Sad ćemo da vidimo. Znaš šta je. Dobro došli u još jednu ričevu avanturu. Kusak bit marak. Sam još manji. prebrzo on meni ide. Meni je žao golpa ovako ubrzo. Kerako mu makradam. Mislim da to tako ubrzo naučio kao on. Znaš šta je. Kako je lako čoveš. Vidiš ti po kakvim čukama. Ja moram stavno zavrzi. Znaš šta je. Jedan, dva. Ideo. Gora je voda. Na vrh onog brda. Ne voljam ponati. Moram patiti namortizirati čoveč. Pogliš će ona da rupati tu čoveč. Spori malo. Znaš šta je. Znaš šta je. Znaš šta je. znaš šta je. Uff. Znaš šta je. Znaš šta je. Znaš šta je. grmi narodi. Znaš šta je. 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 T otrok lukami kolumi sei. Iglesi je motore. Všu šta je. ah ah oh je li ne vedem nime jesve o mene pitaj pušiš pu 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 pušim a pa kako odpražio odbrede miješ pa kako odpražio odbrede miješ povećavam svoju energiju zato što sam protiv ubijanja životinja a nije tačno Osso come devo guardare il suo piede, dovrai posso guardare il suo piede? Vorrei, potete guardare il suo piede. Sì, non lo so, non lo so. Cosa che ci succia il tuo domande? No, come si. I qui ci si fai... A tu devi andare attraverso? No torno mi puoi cominciare. E tu andac, tu sai qui. Sì, andai. Sì. Tra il video di oggi... Sì, eich. In questo video, non è stato Ravan, non è Steven Spielberg. Sì, non è vero. C'è l'ho da doverci tuvi nek' peta, no valli. Snimai ovdè sada il cliu c'è quanto valli. Oggi siamo filmati un paio di scena e di quadro, questo è il nostro treller, vedete un bellissimo deserto. Cosa di questo giro? Cosa di questo giro? Ci sono più i nostri giro. Ci sono stati una possibilità di rullare. E' un po' che cosa può fare. Cosa può fare? Cosa può fare? Ci sono qui? Ora vediamo se sono un po' di buone corse. Se non ci sono un po' di buone, ci sono un po' di buone. Oggi, guardate cosa rischiamo di rischiare. Non è stato un pozzo, non è stato un pozzo. Ma cosa ho dovuto rischiare? Sì, guardate, ti si prepari e ti escoci. Non andiamo ancora. Sì, vediamo qui. Ricarda, subi. Sì, subi. Sì, subi. Sì, se non è. Sì, se non è. Sì, non è. Sì, non è. Non riesce a te sposti da lì. Ahahah. Non ti è vero. Ma io posso dire che questo non è detto. Non è. Director Senad dice che il 10% è interessante. Ma non è. Non è. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Ma ci sono e sul contatto. Vedete, un presidente. È un nostro помanico. È un' percadista. È un' percadista. Tu si possono volerare. Chepete inizialare. Allora. Fa un' percadista. È un' percadista. È un' percadista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.